Un forum sul tema Startup Innovative, i nuovi bandi regionali. È stato un momento di discussione e di confronto che si è tenuto presso la sala delle conferenze dell'Ordine dei Duttori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord ad Aversa. Presenti l'assessore regionale Fascione, l'On. Ciaramella, il Presidente Tuccillo ed esperti del settore. Presentiamo ancora al territorio il bando Startup, la cui scadenza è stata prorogata al 31 luglio, quindi tutte le imprese e potenziali imprenditori hanno qualche giorno in più per mettere a punto questa idea di impresa. Il bando è molto interessante, noi ci crediamo moltissimo, vogliamo sostenere non solo la creazione di nuove Startup ma soprattutto il consolidamento delle Startup già esistenti. Crediamo di aver messo a punto uno strumento molto smart che dà la possibilità ai potenziali imprenditori o alle Startup di sostenere tutte le spese che richiede un investimento per promuovere competitività sul territorio. Noi come dottori commercialisti ovviamente aiutiamo e sollecitiamo queste iniziative che sono fondamentali per il nostro lavoro e ci auguriamo anche con questo corso che oggi abbiamo che le Startup nel nostro territorio possono moltiplicarsi perché con l'innovazione, con la capacità progettuale noi possiamo risolvere quei problemi atavici che abbiamo di mancanza di industria nei nostri territori. Secondo appuntamento con l'ordine commercialisti dell'area nord di Napoli parliamo per essere concreti di aree ben specifiche come l'aerospazio, l'agroalimentare, le biotecnologie e la salute, i beni culturali, la logistica e i trasporti. Aree che sono strategiche per la nostra regione e sono anche quelle aree strategiche per imprese che vogliono nascere e rimanere sul mercato. Parliamo di Startup innovative e per il nuovo bando che è uscito in scadenza, scadenza era il 19, prorogata al 31 luglio e che riguarda, c'è un elevato percentuale di fondo perduto a favore delle Startup innovative. Come commissione di studi ci occuperemo anche di nuovi bandi, quindi nuove imprese a tasso zero fatte da Invitalia, il resto al sud, la nuova misura che sta in programma, siamo in attesa che venga pubblicato il bando. Banca Sella ha un ruolo importante a livello Italia perché da sempre abbiamo creduto in questo segmento. Infatti abbiamo da 4 anni fa è nato il Sella Lab, che è il nostro incubatore delle Startup all'interno del gruppo e dopo Torino, dopo Milano, Lecce lo stiamo portando in Campania. Anche perché oggi la Startup ha bisogno non di richiedere soltanto dei finanziamenti, noi dobbiamo essere bravi a supportare i progetti. L'obiettivo specifico è quello di avvicinare il mondo della ricerca a quello dell'impresa, quindi con la finalità è quella di accrescere le competenze, le conoscenze all'interno delle micro e piccole imprese per accrescere la loro competitività. La chiave di volta è questa sul nostro territorio, bisogna accrescere una competitività delle imprese sul territorio attraverso un accrescimento delle conoscenze.